Io ho iniziato a 14 anni a usare a tirare di coca, poi non ho mai smesso. Ho 26 anni, portati benissimo naturalmente. Mi chiamo Betty. A me piace un casino pippare, lo ammetto. Mi piace soprattutto per scopare. Quando becchi quello giusto, farsi una bella scopata con la coca, è la cosa più figa del mondo. Guarda che se a me non la trovo, non me ci fa a pensare, non me ci fa a pensare. Ancora, la sei voluta fatta sola. Fastidio! Dai, forza, sbrigate. Dai, vai! E se mi fermano? E se ti fermano, gli fa una pompa, vai! Vai! No, pure a me me la fai, pure a me me la fai dopo! È zitto! No! Ai! Sì! Grazie a tutti.